Una lunga fase in superiorità numerica, un tuo gol sottomisura sblocca la partita, che emozione c'è? È stata una grande emozione, non è da tutti i giorni passare un'emozione del genere. Veniamo da un periodo un po' difficile, cerchiamo di riagguantare le prime. Io vengo da un periodo un po' difficile, con un po' di infortuni. Sono contento oggi che sono entrato e ho dato il mio con questo gol decisivo. Speriamo che le cose andranno meglio come stanno andando adesso. Anche il passato decisivo, nei momenti chiave della stagione, anche spesso subentrando dalla panchina. La panchina lunga può essere un elemento in più per l'Ara Nova? Sì, magari, se è sempre così ogni domenica, come no, andrebbe bene, ci metterebbe la firma. Quindi, ripeto, spero che le cose vadano bene come stanno andando adesso. Veniamo da un periodo un po' difficile, speriamo che si sistema la classifica anche su questo fattore. Secondo me, delle belle squadre che noi abbiamo incontrato fino ad adesso sono state il Dragona e l'Isola Sacra. Poi dicono che anche l'Olimpia, che ci giochiamo domenica, dicono che è una buona squadra. Adesso li incontriamo domani e domenica vengono a casa nostra e gli daremo battaglia, sicuramente. L'obiettivo della Canova stagionale qual è? Vincere il campionato, assolutamente vincere il campionato. Sono sincero più di così. È una partita su un campo ostico, loro è una squadra messa bene in campo. Fortunatamente abbiamo fatto gol su una situazione che proviamo spesso in allenamento con il fallo laterale di Lelli. È andata bene. Questa vittoria cambia la fisionomia della classifica, ma cambia anche l'umore in casa Ranova, in vista anche dei prossimi importanti obiettivi. Cambia sì, perché stavamo passando un momento non facile. Questa vittoria spero che sia la prima di un filotto, che speriamo di fare per riagganciare le squadre che sono ai primi posti. Guarda, noi puntiamo a vincere le tutte. Domenica prossima viene l'Olimpia, che è prima, non ha mai perso, quindi penso che sia veramente una bella squadra. Noi stiamo bene da qui a Natale, vogliamo agganciare le prime. L'ultimissima vota il tuo uomo partita in campo quest'oggi. Gennetti perché ha segnato, ci serviva.